Ciao a tutti, io bevo l'acqua. Ho un cuore di tose. Ho scontato perché non portavo la mascherina. Quando finalmente torni a casa e ti togli la mascherina. Si dice che il virus si trasmette anche attraverso i soldi. Ora capisco perché io sono a rischio zero contagio. Abbiamo finalmente una certezza. Secondo gli scienziati il coronavirus arriverà quando non ci sarà più. Questo video si è piaciuto. Metti like. E il video è pronto. Ciao.